Buonasera, buonasera, buonasera a tutti, benvenuti, puntata numero 370 del Festival Italia Musica. Allora ragazzi, che forza la musica! Può partire, può partire l'applauso. Tanta musica, ricordi, artisti, personaggi, veramente iniziamo proprio con un ricordo. Disco per l'estate 1974, questo sì che amore. Video. Il nostro incontro è stato un caso, una tenerezza ed era stata mia. Lei guardava in faccia il cielo, io il viso suo, poi ad un tratto il suo respiro è diventato mio. Io e lei, questo sì che amore, io e lei sullo stesso cuore. Io non avrei creduto agli occhi miei, fu così bello che sembrava vero. Io e lei, questo sì che amore, proprio di Dio, io e lei. Dopo l'amore, quante domande. Gianni Nazzaro, quante domande, quante richieste e quanta musica. Questo pezzo meraviglioso, questo sì che amore, trionfò proprio in quell'edizione del disco per l'estate. Vinse, 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 ma non ce ne è accorso nessuno perché avevo vinto già l'anno prima con Quanta è bella lei. E qui dice un'altra volta. E quindi passò proprio così, ha vinto una bue, ecco, vince sempre. Però quante soddisfazioni che ti ha portato poi questa canzone. Tantissime, tantissime. Oggi sono stato dal mio parrucchiere, tu sai che noi big abbiamo il parrucchiere. Certo, il trucco e il parrucco è fondamentale. Il quale mi ha detto i capelli li vuole indietro? Io ho detto no, se li tenga. Senti, ci ascoltiamo e poi alla fine sono andati indietro. E poi sono andati tutti indietro. Ecco, tutti per così, come diceva Montesano.